Le borse di merito e di mentorship si tratta di due borse di merito che la Fondazione Valtes ha deciso di istituire, dei valori di 12.000 euro ciascuna. 12.000 euro per aiutare chi partecipa a questo bando a realizzare dei progetti. Ci sono due aspetti nuovi relativi a questo progetto, in particolare il fatto che si tratta di borse di merito e non specificatamente solo di borse di studio, il che vuol dire che è steso anche a non studenti, anche a chi ha un progetto ad esempio di avvicinamento al mondo del lavoro, quindi non specificatamente solo sullo studio. L'altro è che questa attività viene accompagnata da un mentore, quindi un mentore che affianca il ragazzo che ha vinto questo bando, questa borsa, nel suo percorso. Lo affianca dandoli dei consigli, aiutandolo nelle scelte, quindi si tratta di un intervento importante perché parliamo appunto di 12.000 euro di contributo che viene dato a chi vincerà questa borsa e accompagnato appunto da un mentore che lo aiuti nelle scelte fondamentali di questo progetto. Ecco per quanto riguarda chi è rivolto possiamo magari parlarne adesso. Ecco queste borse di studio sono rivolte a ragazze e ragazzi del nostro territorio fino ai 30 anni, quindi il vincolo è che siano residenti in uno dei paesi su cui lavora, insiste la fondazione Valtes, la fondazione della Cassa Rurale Vassogane Tesino e per il resto non ci sono vincoli di studio o altre particolari cose, quindi a tutti voi che avete appunto meno di 30 anni e che avete un progetto, l'invito è quello di partecipare e come partecipare appunto lo vediamo adesso. Ecco quindi la modalità di partecipazione è abbastanza semplice, si tratta di presentare la propria candidatura entro fine maggio, entro 31 maggio e tutte le informazioni circa i moduli da presentare sono sul sito della fondazione quindi www.fondazionevaltes.it. Ripeto, entro fine maggio aspettiamo le vostre candidature.